E' le due ruti piazzale degli eroi, Roma, lì l'ospedale oftalmico, qui la casa dove visse l'anarchico Malatesta e una targa lo ricorda, proviamo a mostrarla, eccola lì sulla sinistra. Questa piazza è stata incarniciata da una canzone di Antonello Venditti e oggi chissà perché un volo di gabbiani immenso sul cielo di piazzale degli eroi. Perché proprio qui è così tanti? Hanno forse problemi alla vista? Dimenticavo, laggiù San Piero con la sua cupola, la scalinata dove fu girata una scena dei soliti ignoti, quella in cui la servetta viene importunata da Ferribotte e interviene Pepper Pantera. Da lì si va verso il quartiere delle Medaglie d'Oro. Qui giù invece siamo a Trionfale, quartiere storicamente operaio e di forneciari, quartiere antifascista un tempo. Di là verso via Candia dove si trova la più fornita ferramenta dell'urbe, Fontana. Te le due roti.